nonno seve devi spostare quella la sotto qui no questo qui lo butti lì e questo arrivi da dove cioè è alto un metro è di più butta giù questo si accomodati anche questi se vuoi dopo te li butto giù vedi con scioltezza questo lo metti lì anche lui guarda giù sopra sopra e non buttarlo sotto bravo ecco fatto e questo adesso lo mettiamo là in fondo che va giusto porto da solo quasi quasi la cosa buona è che non ci manca la materia prima sì ma anche questa è franata giù un pezzo è venuta giù che da quella aia sul piede cazzo ma dici che ce li hanno messi qua apposta prima o dopo ci arriviamo dopo dopo ci arriviamo qua vedrai quando c'è zio sever arriviamo basta basta e quelli spampi come cazzo facciamo a passare di là questo è un fiore però è no devo andarla a guardare quello minchiarella caduti in mezzo caduti in mezzo cioè tu pensa che non l'ho visto è un animalissimo schiappolo che lo portiamo al pietro mi sembra di schiacciare è venuto fuori da sotto lo stivano non lo so se c'è in giro la mamma non lo so se prima della casa muore no non è che muore però no è che sei venuto giù da la e ma capire piccolo piccolo eh questo ricchio dopo che cacchio gli do da mangiare cioè ah proprio della serie dall'alto gli hanno cementati vedi hanno messo i sacchi con i sassi ma pensa a te e le barre di cose che erano in forza cemento armato poi hanno cementato tutti i sassi si è staccato tutto ma adesso che ha iniziato a staccarsi adesso stacca tutto si si vengono giù tutti vengono giù tutti qua si spelati ma ci passiamo eh perché scendiamo lì eh andiamo lì avanti non è che siamo chissà dove pensi ai soldi che hanno buttato porco diavolo veramente roba da non credere roba da non credere e adesso vengono giù tutti anche questi tutto tutto non secondo che sta andando una pioggia forte guarda si stanno già staccando tutti eh sono già tutti fuori sotto si stanno già staccati eh lo so che tu vuoi scappare ma dove ti lascio andare o ti rimettiamo qua dove eri ma eh non so dove eri ma io l'ho visto per terra si il nido era qui eh perché piccolo com'è dove vuoi che sia l'unica maniera è metterlo sopra lì Spampi dove lo metto? oh Spampi dove lo metto? no in bocca non ci sta lo metti nel fratto lo metto sopra lì lo metto sopra lì che prende il volo che prende? no è che dentro qua non riesce neanche a muoversi che cazzo fa a muoversi? e lo appoggialo qua dove la prima intanto se deve morire muore la sua vita è durata fino adesso basta non puoi fare diversamente almeno che te lo porti a casa se te lo faccio vedere non lo lasci andare ma va ma che schiaccia che se cado lo ammazzo e allora lo metto qua che cammina cazzo là è pieno di rovi ma tanto lo sente eh tanto adesso l'abbiamo toccato trunzi mettilo lì dove sei trovato sul muretto in alto ci sono tutti i rovi ma anche qua ci sono i rovi ma anche qua ci sono i rovi qua cammina ma è troppo piccolino ma se ho visto lo troverà la volpe la volpe lo trova è la vita degli animali questa l'ammazza per mangiare non è che l'ammazza per divertimento non è un uomo non è come questo qua io lo curerei fino a qua è già andato lì cazzo è già andato fino a l'anera allora sarà andato lì ciao